Il filmato girato più di un anno fa ma andato in onda soltanto ieri sera al programma Le Iene vede un Luca Barbareschi picchiare ed insultare l'inviato del servizio. Spiegano che il video è stato prodotto quando Barbareschi era un deputato del Popolo della Libertà ma è stato reso noto soltanto ieri sera perché il giudice a cui si era rivolto l'attore ne aveva vietata la messa in onda. Poi c'è stato un ricorso e quindi la situazione è stata sbloccata perché il ricorso poi è stato vinto appunto dal programma Le Iene. L'onorevole Barbareschi, deputato abbiamo detto del Popolo della Libertà, si impegna in politica ma dopo neanche due anni cambia idea e passa all'opposizione con future libertà di Gianfranco Fini e ancora dopo qualche mese ricambia idea di nuovo e si mette con il gruppo misto nelle file sempre di Berlusconi. Parliamo ovviamente di diverso tempo fa. Malgrado questa attitudine alla politica, dice sempre il servizio, continua il suo lavoro principale che è quello di attore, tanto da registrare assenza in Parlamento del 100%. Poi le Iene fanno proprio vedere i tabulati che vengono prodotti proprio dal Parlamento per monitorare le presenze che ci sono dei deputati per discutere vari argomenti. Tutte le volte che le Iene hanno provato a chiedere a Barbareschi come mai questo assenteismo malgrado lo stipendio di parlamentare fosse strapagato l'attore ha risposto con insulti e pecchiando addirittura il giornalista delle Iene. Il giornalista in questione è Filippo Roma che si sente dire cretino, cretino oppure quando torno stasera almeno un'altra volta, va bene, queste sono sempre parole di Barbareschi oppure lei non è un giornalista, lei è un cretino oppure ancora non le è chiaro perché a lei le trema la manina perché lei ha paura o ancora per cui di dare del ladro a chi non è un ladro non si deve permettere. Queste sono tutte piccole, un insieme di frasi dette da Luca Barbareschi nelle varie occasioni in cui l'attore è stato avvicinato sempre per chiedere spiegazione insomma del suo assenteismo. Queste sono frasi, poi ci sono state anche diversi colpi, diversi schiaffi, calci insomma strattonamenti vari, tant'è che Filippo Neri diceva insomma io le sto facendo una parola, lei per quale motivo mi deve picchiare. Comunque detto questo, se volete vedere il video ve lo indico subito prima dei commenti nella descrizione è un video Mediaset e insomma se volete vedere l'originale di quanto è accaduto potete ricopiare l'indirizzo insomma per poi accedere al video. Grazie. 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 Grazie.